Precisione Ravanelli, Ravanelli, attenzione, attenzione, gol, gol! Ravanelli porta in vantaggio la Juventus quando siamo al dodicesimo minuto. Di Fran de Boer. Finili, sta per entrare in area. Attenzione, grande libertà per Musampa, il tiro alla parata. Di palla dalla distanza, prova, blind, c'è una deviazione, palla velenosa, vedete che Peruzzi. Grande attenzione, esce Peruzzi e prova poi Musampa. Attenzione, palo, palo! Ma secondo me, a parte la palla non era entrata. Per Deschamps, Deschamps, salta l'avversario, ancora Deschamps, dovrebbe andare avanti Deschamps, la deviazione. Ajax, questa conclusione, non si sa per quale motivo, abbia tirato Peruzzi e c'è gol di Littmanen. Incredibile, mentre vediamo che Fangal è andato ad alzarsi, a protestare con Ravanelli. Vedete la finita di Ravanelli, molto bella, retropassaggio, attenzione! Buona, attenzione, Del Piero, Del Piero, attenzione, Del Piero, tiro, palo con l'Uri Baviali, attenzione! No, no! Gol, i tifosi giuventini qui, e l'arbitro dice che è finita. Avremo dunque i supplementari. Piero, la palla sembrerebbe buona, ancora Del Piero, attenzione, incredibile, incredibile! Attenzione alla conclusione, la prova ancora con questa conclusione Del Piero, ed è calcio d'angolo. Viali, attenzione, Viali resiste, ancora Viali, attenzione! E c'è la parata del porcino, palla buona, Del Piero, tiro! No, no, no! Ed è finita, ed è finita. Si va all'appendice dei calci di rigore dopo che i tempi supplementari sono finiti con il risultato di... 1-1. Calci di rigore di Davids, parte, attenzione! È parato, è parato! Attenzione alla battuta di Ferrara, tiro, gol! Bravo! Si parte il tiro, attenzione, gol! Per cercare l'angolo, tiro, gol! Bravo, bravo, Pessoa! E' gol, grande freddezza, prende la rincorsa, attenzione, gol! E' di gol, e' di gol! E' parata, è parata! Questo calcio di rigore, attenzione, tiro, e' di gol! E' di gol! E' finita, è finita! La Juventus è campione d'Europa.